Amici, non fai intendetemi, qualche giornata interessante l'ho avuta anch'io, ma a parte questo sono dispiaceri grossi, è come se mi avessero fatto il malocchio, a cui io credo perché arrivato a questo punto c'è, volevo dire, perché non posso dire tutta la verità, perché mi vergogno, ma è proprio come se una forza del male avesse preso la mia vita, fin da quando ero piccolo. Ed ora sto impellerò un pezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.